Buongiorno e benvenuti su Black & White Studio TV. Oggi siamo alla casa di Giulietta. Ogni giorno centinaia di turisti fanno la fila per toccare il seno destro della statua di Giulietta, che dicono porti fortuna e in amore. In questo palazzo leggende e realtà incrociano la fantasia. La tragedia di Shakespeare ha trovato diversi riscontri nella città di Verona. Sono esistite realmente due famiglie chiamate Montecchi e Cappelletti. Citati anche da Dante nella Divina Commedia, i Cappelletti vivevano in questo palazzo, come testimoniato dallo stemma di famiglia. I Montecchi, invece, erano un'importantissima famiglia di bellina veronese, coinvolti in lotte sanguinosissime per il controllo della città. Le pareti del cortile sono completamente ricoperte di messaggi e dichiarazioni d'amore, lasciate dagli innamorati di tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.